Allora, una piccola chiacchierata su quelli che possono essere gli errori più comuni che possiamo fare in generale, ma specialmente in questo periodo in cui diventa davvero indispensabile avere una particolare attenzione alle combinazioni alimentari, perché noi facendo movimento, praticamente non ci possiamo muovere, siamo bloccati in casa, eccetera, dobbiamo fare molta attenzione ad alcune piccole regole. Vi vorrei parlare di una regola che è una regola veramente che possiamo seguire con estrema facilità. Chi mi segue da anni già la conosce, però, repetita Juvent, dicevano i latini, la regola delle 5P. Cos'è la regola delle 5P? Allora, immaginiamo che ci sono 5 alimenti, che tra l'altro sono forse tra i più graditi per ognuno di noi, che sono, che cominciano proprio con la lettera P, che sono il pane, che sono la pasta, che sono le patate, che sono la polenta e che sono la pizza. Allora, queste 5P rappresentano 5 alimenti che sono probabilmente gli alimenti che ci piacciono di più e che sono, tra l'altro, quelli più accessibili in questi giorni, perché noi possiamo fare scorta di pasta, possiamo fare scorta di patate, possiamo fare scorta di sostanze per preparare una pizza in casa. Ecco, in realtà, però, noi questi 5 alimenti che possiamo mangiare, a condizione che siano divisi tra di loro, che cosa significa? Che se mangiamo la pasta, non dobbiamo mangiarci insieme pizza, patate o polenta o l'altra P qual era, non me lo ricordo più, ma insomma, comunque, se noi mangiamo, ad esempio, la polenta, non dobbiamo mangiare accanto il pane o non mangiarci la pizza. Sono delle piccole regole, allora mi direte, ma con che cosa le possiamo abbinare? Allora, basta dividere le 5 P, quindi mangiare o solo pane o solo pasta o solo pizza o solo polenta o solo patate con che cosa? Con altri alimenti. Certo che non è che dobbiamo mangiare solo pane, possiamo mangiare, ad esempio, il pane con, non so io, del pomodoro, con del basilico, con dell'olio extravergine d'oliva. Mangiamo un piatto di pasta? Mangiamo un piatto di pasta con un pomodoro basilico, con un sughetto leggero buono, magari ci abbiniamo una bella insalata o una bella verdura. Mangiamo la pizza? Mettiamo sulla pizza delle, non so io, possiamo mettere, ad esempio, delle zucchine, delle melanzane, delle verdure. Importante non mettere sulla pizza, ad esempio, le patate, come tante volte io vedo, la pizza con le patate, che è buonissima, col rosmarino, squisita, ma non va bene dal punto di vista, appunto, delle combinazioni alimentari. Questa regola delle 5 P, vi basterebbe seguirla alla lettera e ricordare sempre che la P del pane, quindi il pane, non bisogna mai esagerare con le quantità e tostarlo perché abbassa il carico glicerico. Stessa cosa vale per la pasta. Pesiamo, ad esempio, 60 kg di pasta, pesiamo 70 kg di pasta, pesiamo 80 kg di pasta. Ecco, sono piccoli suggerimenti che a mio avviso possono essere molto utili e abbiniamo queste nostre 5 P sempre con un piatto di verdure, e possibilmente anche crude perché sono ricchissime di acqua biologica. E ricordiamo un'altra cosa fondamentale, che le patate, se le mettiamo, se le sbucciamo, le tagliamo, le mettiamo a bagno per 24 ore, abbassano moltissimo il carico glicemico e non fanno neanche ingrassare e diventano veramente buonissime al forno con rosmarino. Un abbraccio affettuoso e buon appetito!